Il direttore della National Gallery di Londra, Gabriele Finaldi, a Sansepolcro all'interno della Casa di Piero per presentare l'anteprima del restauro della Natività di Piero della Francesca. Io ho voluto presentare questo lavoro oggi nel contesto della National Gallery come una specie di seconda casa di Piero della Francesca. Questa è la Casa di Piero della Francesca ma siamo stati ospiti qui per presentare i lavori che abbiamo completato recentemente sulla Natività, opera che procede da questo spazio, da questa casa, che abbiamo voluto trattare con un'enorme attenzione, con un restauro assolutamente rigoroso e l'abbiamo voluto presentare proprio qui. Direttore, che restauro è stato quello della Natività? È stato un restauro che ha affrontato delle questioni molto complesse perché è un'opera che ha avuto una storia molto travagliata. La Natività con questo restauro è tornata alla sua bellezza? Certamente, è un quadro che naturalmente rimane compromesso della sua storia ma penso che oggi si presenta nelle migliori condizioni possibili. Possiamo considerare la giornata odierna come storica? È stata un'iniziativa sinceramente importante non solo per la Fondazione e per la città ma per l'intero Paese perché in questi ultimi tempi si è parlato di questo restauro attraverso le pagine dei giornali. Oggi per la prima volta, dopo tanti anni, era qui riunito tutto il comitato scientifico e quindi effettivamente oggi è stata una data significativa che ha segnato una definitiva svolta nel percorso della Fondazione Piero della Francesca.